Barzelletta time, tempo di barzelletta. C'era una di un pullman, una signora si avvicina ad un autista e ci fa così che l'autista. L'autista ha guardato qui e ci ha. Una signora qui e ci ha. L'autista qui e ci ha in questa maniera. Allora si avvicinano i carabinieri e ci dice scusate, io sono un carabiniere, ma come vi permettete? Fate l'autista e fate tutte queste scene, queste qui sono scene che non si possono fare. Una signora nel pullman e scusate, io vi devo richiamare, vi devo richiamare all'ordine. Ci dice no scusate, non l'avete capito, avete capito male. Praticamente la signora è sordomuta, ogni mattina mi fa la stessa domanda e mi dice se il pullman arriva là e gira a sinistra. E ci dice no, gira a testa. E io mi dice scusate ma passa dalla ciancialla del latte. Ci dice no, si ferma solo l'umercato dopo pigia. Romano no, non no Ha 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 ha! Ha 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 ha! No, no!